In fila per tre con il resto di due. Molti di voi ricorderanno i 44 gatti dello zecchino d'oro, ma se in questi giorni ci affacciamo agli sportelli dell'ufficio tributi del comune di Bari, i baresi in coda sono centinaia, per nulla soddisfatti dei pagamenti delle imposte comunali che hanno prosciugato con largo anticipo le loro misere tredicesime. Sarà pure che a Bari l'aliquota della tasi è stata abbassata rispetto all'ultima IMU, ma ciò non toglie che i cittadini e utenti sono imbestialiti e fin dalle prime luci dell'alba cercano di conquistare i primi posti pur di evitare stenuanti attese per chiedere l'esenzione o la riduzione della Tari, il balzello sui rifiuti, o della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili. L'ufficio preposto ad accogliere anche proteste e mugugni a pochissimi giorni dalla scadenza è stato letteralmente preso d'assalto, ore e ore passate in coda per prendere il biglietto e poter accedere agli uffici, a metterci come sempre lo zampino e rendere la vita più complicata, è la burocrazia, il vero cancro del sistema. Il comune infatti non avrebbe calcolato le esenzioni e le detrazioni e i centri di assistenza fiscale, pilatescamente, si sono lavati le mani. Il pallino dunque è tornato al povero utente che deve sbrogliarsela da solo. Ma a rimetterci sono i pensionati, quali devono confrontarsi con una materia ostica e difficilmente comprensibile. La scadenza dei pagamenti, dicevamo, è fissata il 16 dicembre prima ancora di percepire la tredicesima. Ad aiutare i dipendenti nel gestire le code si sono messi ieri anche i vigili urbani che questa volta più che dirigere il traffico hanno dovuto affaticare non poco per organizzare al meglio l'accesso. A parte i CAF il problema riguarda la riorganizzazione dei servizi e la necessità in questi periodi di incrementare il personale della ripartizione tributi. Per alleviare gli enormi disagi, domani è prevista un'apertura straordinaria dalle 8 e 30 alle 13 e 30. Il sindaco ha informato di aver potenziato il personale di tre unità, ma l'assalto, a parte la giornata odierna di sciopero, continuerà fino all'ultimo secondo utile.